La pubblicità ci raggiunge ovunque, ci raggiunge in modo sempre più personalizzato, però non dobbiamo demonizzarla. Anche il tema dei dati può trasformarsi in un'opportunità anche per il consumatore. Mi spiego. Se esiste un principio di reciprocità, cioè quello che io veicolo al consumatore gli è utile e riesco a dargli un'utilità perché lo conosco, la pubblicità funziona. Dall'altro lato ci deve essere trasparenza. Che cosa voglio dire per trasparenza? Occorre ad esempio che quando è esposto un banner venga esplicitato sotto in piccolo se quel banner deriva da un'analisi di click through nel website dell'utilizzatore oppure da dati di terza parte. Ci sono fior di indagini che dimostrano come a fronte di condizioni di reciprocità e trasparenza il consumatore è ben disposto ad avere una pubblicità che gli sia utile.